Grazie a tutti. Il tema che mi è stato assegnato dentro lo scenario della tutela delle persone in difficoltà, dove peraltro c'è un sottotitolo piuttosto evocativo perché il sottotitolo sono gli sviluppi della sentenza della Corte Costituzionale 242.19. In materia di garanzie per le persone deboli e la possibilità dell'obiezione di coscienza del personale sanitario. Quindi dentro questo scenario il tema che mi è stato assegnato riguarda persone e volontà nel fine vita. E non è un titolo innocente perché già fa intendere come persona e volontà seguono delle traiettorie che non sempre sono sovrapponibili. Che cosa è successo in questi ultimi 40 anni nel diritto civile italiano? In particolare si sono verificate delle vicende di carattere normativo che hanno spostato l'attenzione da una primazia della tutela della integrità fisica della persona a una maggior protezione della volontà della persona stessa e cioè a dire dal dato oggettivo biologico ci si è spostati sul dato soggettivo dell'autodeterminazione. Certamente molto è capitato con la legge 194 relativa all'interruzione della gravidanza dove già lì il bilanciamento dei due beni che in quel momento si confrontavano all'interno di quella legge, il nascituro, il feto e dall'altra parte la donna non sono stati messi giuridicamente in proporzione omogenea ma l'integrità, la vita del nascituro è stato posto in bilanciamento non solo con l'integrità fisica della donna ma anche con quella psicologica, psichica e certamente questo amplia il tema della soggettività giuridica in una vicenda che riguarda anche una percezione di sé tutta la parte diciamo così psicologica e questo in particolare si è verificato poi nell'attuazione di quella legge che ha comportato che l'ultima parola in tema della vicenda interruttiva della gravidanza spetti alla donna e questo ha declinato il nostro diritto privato in una vicenda molto particolare e cioè che non sempre non sempre, il bene giuridico, vita, integrità fisica viene trattato in modo omogeneo. Cosa in particolare è successo ulteriormente negli ultimi anni? La vicenda normativa di maggiore contenuto con riferimento al rapporto fra libertà, volontà e persona riguarda un provvedimento normativo che ha a che fare proprio con la protezione delle persone prive in parte di autonomia mi riferisco al grande tema dell'amministrazione di sostegno chi ricorda la vicenda istitutiva, legislativa di quell'istituto particolarissimo ricorda che era la razio quella di attenuare la rigidità di una tutela delle persone solo in chiave strettamente patrimoniale e cioè nel nostro codice civile esiste una forma di tutela delle persone e dei loro patrimoni che si limita a una gestione di beni materiali, di patrimoni e che consente la limitazione delle capacità di agire di alcuni soggetti nel caso dell'interdizione e nel caso dell'inabilitazione laddove questo mette a repentaglio, la libera determinazione di questi soggetti mette a repentaglio il proprio patrimonio. Davanti a questa vicenda molto stringente ci si è domandati e anche gran parte del mondo cattolico lo ha fatto se non ci fosse uno strumento più duttile di curare gli interessi della persona priva in parte o totalmente della propria autonomia non solo secondo gli aspetti patrimoniali ma anche per gli aspetti personali potremmo dire esistenziali e l'amministrazione di sostegno è sembrato lo strumento più idoneo perché va oltre il dato prettamente patrimoniale ma amplia l'orizzonte degli interessi del soggetto tutelato in questo caso del soggetto amministrato anche a che riguardano interessi personali non strettamente legati a beni materiali era sembrata una grande conquista e devo dire che per gran parte lo è e tuttavia a un certo punto i giudici hanno cominciato a utilizzare questo schema dell'amministrazione di sostegno per far prevalere la volontà sulla persona e cioè nell'archetipo di quella norma la protezione è rubricato così nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno la protezione è diretta alla persona priva di autonomia e invece la lettura che ne ha dato la giurisprudenza è stata quella di allargare la tutela e la protezione alla volontà della persona e non è una sottilezza ma nel momento in cui l'ente, il soggetto potremmo dire in chiave giuridica il bene tutelato non è la persona nella sua integrità biologica ma è la volontà di quest'ultima inevitabilmente c'è un passaggio che in qualche modo si disgiunge dalla persona stessa perché se quella volontà non è espressa direttamente dalla persona ma comunque va tutelata potrebbe capitare che si crea addirittura una contrapposizione tra la volontà del soggetto amministrato e la sua stessa persona non è un caso che le prime forme di testamento biologico sono state redatte nell'ambito di vicende relative all'amministrazione di sostegno e quindi si è arrivati a utilizzare una norma di protezione della persona che non ha autonomia con una protezione invece di quella volontà che se non poteva essere espressa direttamente sul momento poteva essere espressa da un soggetto che amministrava gli interessi la cura di quella persona e che poteva arrivare anche alla richiesta di porre fine alla resistenza della persona stessa una forma di autodeterminazione delegata e qui nasce la vicenda del testamento biologico perché effettivamente ci poteva anche essere che l'amministratore ricevesse una sorta di delega in bianco nel prendere alcune decisioni davanti ad alcuni eventi che nel curare l'interesse del suo amministrato avrebbero potuto nelle vicende di cura portarlo a rifiuto della cura lì la giurisprudenza non è mai arrivata a utilizzarla fino a chiedere la morte dell'amministrato anzi normalmente era in senso contrario è sempre stata utilizzata per proseguire le cure quando non c'era la volontà dell'amministrato però invece la dottrina e dei tentativi dentro la giurisprudenza cercavano, hanno cercato di far trasparire soprattutto la tutela della volontà piuttosto che non quella della integrità della persona protetta Cosa succede nell'ultima fase che potremmo dire è l'orizzonte nel quale si muove il nostro convegno segnatamente con la sentenza della Corte Costituzionale la numero 242 dell'anno scorso succede che partendo da una nuova legge sul fine vita dove si consentiva di poter rifiutare i presidi sanitari laddove fossero stati percepiti dal paziente come insopportabili e dentro questi presidi è inserita in modo esplicito anche l'alimentazione e l'idratazione che fino a quel momento storico della promulgazione di questa legge era molto dibattuto se fosse o non fosse così avevamo anche casi giurisprudenziali risalenti sin dal caso Inglaro ma poi una sezione la terza della Cassazione Civile che aveva disatteso la prima del caso Inglaro invece rifiutando che ci potesse essere un rifiuto in assenza di una volontà presente al rifiuto stesso e invece la legge chiarisce che effettivamente il rifiuto anche di presidi che possono rappresentare dei presidi salvavita possono anche essere esplicitati attraverso degli atti che poi hanno una loro rilevanza giuridica ancorché il soggetto non abbia più la capacità per esprimerli e quindi si è introdotto in Italia la vicenda nota delle direttive anticipate di trattamento e delle possibilità di rifiutare un presidio salvavita ancorché questo poi porti inesorabilmente al termine della vita stessa del paziente dentro questa vicenda non si è introdotta esplicitamente una forma di eutanasia attiva perché effettivamente si è ritenuto che davanti a queste fragilità e quindi ai tanti condizionamenti che ci sono in quel momento di fragilità questo interesse a porre fine in modo attivo da parte di altri la vita di un soggetto che è in una situazione particolarmente vulnerabile sarebbe stata una vicenda di eutanasia o addirittura di aiuto al suicidio o omicidio del consenziente che nel nostro ordinamento non si armonizzava con i principi cardine del nostro ordinamento stesso e tuttavia la normativa prevedeva che davanti a questi rifiuti invece di presidi nel momento in cui la persona andava via via a spegnersi magari, magari purtroppo con grandi sofferenze entrava in gioco tutta la vicenda della palliazione, della terapia, del dolore della sedazione che aveva come obiettivo quello di attenuare, limitare, ridurre o addirittura la Corte Costituzionale e dice una cosa nuova tutto nasce, inutile ripercorre la vicenda giudiziaria di Cappato che accompagna il DJ Fabo in Svizzera a vedersi somministrata una forma di suicidi assistito cosa dice la sentenza? dice poiché voi avete già una legge la 219 del 2017 la legge appunto sul fine vita che consente al paziente direttamente o per interposta persona di rifiutare dei presidi salva vita assin anche l'alimentazione e l'idratazione e poiché in questi casi vanno comunque attivate tutte quelle terapie che vanno ad attenuare il dolore ma inesorabilmente si morirà la Corte dice ma questo è da tutti ritenuto degno ci sono delle persone che il morire in questo modo così lento così a un certo punto senza essere più coscienti consapevoli e probabilmente con dei dolori che poi non è poi così chiaro che ci sono non ci sono che davvero si possono ridurre totalmente e perché invece a questo punto ridando spessore alla dignità nel senso di volontà di volontà del soggetto non arrivare a questo esito finale in modo immediato perché protrarre questo strazio e invece non anticipare un esito che comunque è già scritto e su questo passaggio che allora la Corte Costituzionale chiedendosi della legittimità della norma penale sull'aiuto al suicidio apre apre alla possibilità che davanti a taluni requisiti si possa a questo punto essere sottoposti a una forma di etanasia di somministrazione sostanzialmente di un farmaco letale che blocca immediatamente quella vicenda progressivamente degenerativa sempre sotto sedazione ma che comunque sembrerebbe contraddire la volontà la dignità del soggetto della cui vita si tratta è qui dentro che si inserisce la Corte Costituzionale e prendendo le mosse appunto da una norma penale molto chiara e molto ben definita nei suoi contorni cioè che in sostanza vieta a chiunque di aiutare un altro soggetto a porre fine alla propria esistenza il cosiddetto aiuto al suicidio è sanzionato penalmente la sentenza dice beh facciamo attenzione non è sempre vietato questo la norma rimane in piedi l'articolo 580 del codice penale ma come la Corte Costituzionale usa fare come usano fare le sentenze della Corte Costituzionale dice rimane in piedi salvo che in una parte cioè quando si verificano talune condizioni che sono in particolare quattro condizioni ve le leggo sono abbastanza note queste quattro condizioni però è bene che vengano ricordate di una persona quando è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche psicologiche che è la persona stessa reputa intollerabile ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli ecco che riemerge la volontà sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario per parere del comitato etico territorialmente competente questi sono i requisiti per cui la Corte Costituzionale davanti a queste vicende estremamente fragili e vulnerabili ritiene che non si possa essere incriminati di una vicenda penale ma che invece davanti a queste condizioni quindi una condizione irreversibile una situazione insopportabile una volontà che si può esplicitare quindi questa è una situazione in cui ci deve essere una piena consapevolezza requisiti che consentono in questi casi di essere aiutati di essere aiutati a morire essere aiutati a morire che è una formula che in realtà significa che se si somministra un farmaco letale in questi casi non si viene incriminati ovviamente e qui entriamo sul tema che riguarda la tutela delle persone in difficoltà ovviamente questa sentenza della Corte si pone il problema che è sotto gli occhi di tutti sia di chi è favorevole sia di chi è contrario all'eutanasia e cioè ma con riferimento alle persone fragili vulnerabili in condizioni spesso molto precarie anche da un punto di vista psicologico del fine vita quanto c'è di libertà quanto c'è di volontà quanto c'è di condizionamento perché il problema che credo abbracci tutti i credenti e non credenti è di evitare che una norma una sentenza a un certo punto inserisca un modello culturale per cui proprio i più deboli sentono la pressione della società che gli sta dicendo guarda tu hai questo strumento che oggi è legittimo di sostanzialmente porre fine alla tua esistenza legittimamente ti puoi anche far aiutare e a questo punto perché non percorrerlo perché del resto la tua figura in questo momento nella società non è di particolare ausilio qui per i credenti c'è il grande tema della cultura dello scarto di Papa Francesco che sta là con un macigno a ricordarci ovviamente non solo sul tema del fine vita ma parliamo delle fragilità esistenziali a 360 gradi dall'immigrazione rifiuti nelle periferie alle persone considerate rifiuti nelle periferie però questo tema è affrontato dalla sentenza della Corte Costituzionale si rende conto la Corte che non può dare semplicemente un diritto a porre fine alla propria esistenza aiutati e fermarsi lì perché a questo punto come tutte le leggi le leggi hanno un forte impatto culturale e quindi inevitabilmente entra nelle corsie d'ospedale questa possibilità in più già noi sappiamo che quando siamo in corsia d'ospedale e firmiamo questi consensi informati difficilmente siamo ben consapevoli di quello che stiamo firmando quindi capirete qui c'è una crocetta in più da scrivere che invece è determinante perché significa che la propria vita finisce allora da questo punto di vista la Corte si pone questo problema e chiede ovviamente soprattutto che ci sia una presa di atto quindi una procedura che verifichi che davvero era quella la volontà del paziente e dice però una cosa una seconda cosa particolarmente interessante e cioè poiché esiste in Italia un'altra normativa del 2010 che riguarda proprio la terapia del dolore la rete delle cure palliative cioè quella strada umana di accompagnamento delle persone che hanno una fase di vita terminale e che tuttavia vanno sostenute accompagnate va eliminato il dolore dove possibile e tutto questo implica che occorre che la persona che in quel livello di chiamiamo insopportabilità legata a una malattia abbia davanti la vera libertà e quindi possa accedere alla rete delle cure palliative e nel momento in cui non si risolva questo suo forte dolore pena in quel momento di malattia possa a quel punto chiedere l'aiuto alla fine vita e la corte questo lo dice in modo chiaro ripete più volte che occorre per creare potremmo dire usando l'espressione una vera autodeterminazione che questa autodeterminazione non sia l'unica possibilità che una davanti e cioè devo chiedere la fine della mia esistenza perché non ci sono altre strade qui il dolore è tantissimo per me insopportabile questa non sarebbe un'autodeterminazione in uno stato che invece ha offerto quest'altra strada di poter accompagnare con una riduzione del dolore la propria esistenza nella fase terminale sarebbe e sarà libertà o comunque autodeterminazione se c'è anche l'altra possibilità cioè quella di vedere un accesso anche alle cure palliative io ritengo che questo sia un punto cruciale ritengo che questo sia un punto cruciale anche l'ultima vicenda che è arrivata alle cronache dove i radicali hanno subito detto ah ma qui non si sta applicando la legge sul fine vita l'asla non ha consentito che quella richiesta venga assecondata fermi fermi un momento la sentenza della corte costituzionale non dà un diritto assoluto a chiedere la fine della propria esistenza alle strutture pubbliche non c'è scritto questo nella sentenza nella sentenza ci sono alcuni requisiti ci sta un comitato etico che deve prendere in considerazione quella vicenda e c'è soprattutto una struttura sanitaria che non solo deve verificare i requisiti ma deve anteporre anche delle vie alternative all'esito finale e c'è scritto nella sentenza e le vie alternative sono ad esempio percorrere tutta l'itinerario delle cure palliative della terapia del dolore se questo non si fa per inefficienza perché non ci sono risorse perché in alcuni territori del nostro paese non esistono questi hospice che accompagnano i malati terminali perché non c'è questo e attenzione perché si sta concorcando un diritto non si sta assegnando un diritto al paziente fragile non gli si sta dando un diritto in più gli si sta dando un diritto in meno e cioè gli si elimina quella possibilità per poi necessariamente non poter altro che chiedere evidentemente la vicenda della somministrazione di un farmaco letale allora questo è un tema davvero cruciale e non è un caso peraltro che anche i radicali che sono chiaramente favorevoli a tutte le forme di otanasia di suicidi assistito nell'ottica dell'autodeterminazione quando si entra nel gioco di quello che lo Stato dentro i livelli assistenziali deve garantire a tutti i pazienti anche loro si rendono conto che invece vanno potenziate queste reti e va offerta la possibilità invece di attraversare la terapia che è possiamo dirlo più armonica dentro un contesto che non è fatto solo di un individuo perché le vicende del fine vita non sono delle vicende che riguardano un soggetto solitario purtroppo possono riguardare un soggetto solitario ma perché allora è stato abbandonato ma in realtà riguardano dei contesti dove non è indifferente che ci sia un accompagnamento ci siano anche delle relazioni magari minimali ma ci sia ancora una mano che si stringe uno sguardo un abbraccio una persona accanto per un tratto di strada insieme un momento anche di consapevolezza del paziente che magari non è nella sua vicenda esistenziale come la vorrebbe ma che magari è vicino a un nipote che ha avuto un bel successo e gli fa piacere essere presente in quel momento insomma questa vita terminale rimane vita non è una vicenda che è morte e rimane vita anche se magari è breve magari non è lunghissima rimane vita l'alternativa e cioè di troncarla subito implica che c'è un pezzo di un'esistenza di tutto quello che è il contorno che verrà privata inesorabilmente e a quel soggetto e anche i familiari o le persone che sono intorno a quel soggetto e quindi qui di nuovo c'è questa dialettica fra volontà e persona fra libertà e persone e cioè si tratta di capire se la vorrebbe far retrocedere la persona è una definizione filosofica ma che in buona sostanza significa socialità non l'individuo significa stare dentro delle relazioni e questa situazione nella sentenza della Corte Costituzionale è piuttosto chiara si può non condividere la sentenza della Corte Costituzionale perché oggettivamente è aperto a un esito che non era quello della legge facciamo anche attenzione al tema delle fonti del diritto nel 2017 una legge dello Stato ha scelto di non introdurre in Italia l'eutanasia ma a questa forma di rifiuto delle terapie che però se poi portano a un fine vita il fine vita va accompagnato e non va invece bruscamente interrotto con un'iniezione letale questo dice quella legge del 2017 e che a un certo punto partendo da fatti giudiziari arrivi una decisione della Corte che ha anche una sua logica perché io comprendo che nel momento in cui dice quella legge ti dà solo quella possibilità ma tu dici io tanto perché nel morire devo provare delle pene e devo essere sedato no voglio affrontarla c'ha una sua possibilità di dialogo su questo tema si può parlare non c'è un rifiuto da una parte dall'altra ma resta fermo che la legge aveva preso un'altra strada insomma le leggi rappresentano alla fine la volontà di un Parlamento che per quanto sono Parlamenti ormai un po' bistrattati rappresentano la collettività e i giudizi la giurisprudenza non rappresenta quella collettività e su questi temi è molto delicato che siano poi i giudici a prendere delle linee anziché un momento di mediazione di dibattito pubblico la sentenza della Corte Costituzionale ha un grande limite e che però è anche la sua forza di valere come se fosse una legge anzi vale più di una legge perché voi sapete che le sentenze della Corte Costituzionale dicono quali sono le leggi conformi alla Costituzione e una volta dicono che quella legge non è conforme alla Costituzione c'è poco da fare prevale la sentenza della Corte Costituzionale perché la sentenza della Corte Costituzionale si rifà alla fonte primaria di rango più alto che è la Carta Costituzionale e quindi mentre normalmente quando noi dibattiamo di questi temi si apre un dibattito c'è un confronto le parti politiche ne parlano pubblicamente si parla sui giornali passa un anno passano cinque anni poi nella legislatura successiva arrivano i disegni di legge e poi alla fine viene fuori un momento legislativo in cui si vota una legge qui è successo il contrario qui c'è stata una legge che ha rifiutato nel 2017 l'eutanasia ed era frutto di vent'anni di dibattito e di casi giurisprudenziali poi dopo quella legge non c'è stato un dibattito sull'eutanasia non ci sono stati disegni di legge che sono stati portati all'attenzione pubblica e abbiamo aperto discussioni no è arrivata un'ordinanza della Corte Costituzionale la quale ha detto attenzione adesso quella legge che avete fatto è imperfetta ha bisogno di un pezzo in più cioè deve aprirsi anche a delle vicende di suicidi assistito con tutti i requisiti che abbiamo detto e questo impedisce il dibattito perché questo implica che non si lascia al Parlamento questa scelta ma è direttamente un organismo importante come la Corte Costituzionale ma che comunque non è eletto il quale ritiene che quella legge è imperfetta è incompleta e nel completarla introduce una potremmo dire un pezzo di norma che addirittura il Parlamento aveva rifiutato due anni prima perché non l'aveva introdotta bloccando a questo punto qualsiasi dibattito perché nel momento in cui decide la Corte Costituzionale non è come il Parlamento che prima di decidere ci sta il dibattito e il confronto no lì si riuniscono intorno a un tavolo 15 giudici e decidono sì o no e in questo caso introducono un altro principio ecco questo è un tema che dovrebbe far riflettere tutti a prescindere da quella che è la propria visione sul contenuto specifico della tenuta anche della nostra sistema ordinamentale su temi nevralgici come quelli del fine vita nel contesto delle fragilità umane ecco questo è un inquadramento che io mi sono sentito di fare perché quando si parla della tutela delle persone in difficoltà e poi però si mette un sottotitolo non innocente come richiamo alla vicenda della corte costituzionale si sta dicendo che dobbiamo chiarirci su cosa significa tutela delle persone perché per una certa visione tutela delle persone è la tutela della loro vita della loro integrità fisica della loro integrità biologica secondo un'altra accezione è la tutela invece delle loro libertà della loro determinazione della loro volontà e sono due riferimenti che non sempre vanno insieme e quando non vanno insieme si creano questi casi giurisprudenziali che poi portano anche al legislatore in questo caso la corte costituzionale di prendere delle decisioni per cercare di operare un bilanciamento allora io ricordo che Francesco Carnelutti un giurista del secolo scorso diceva che nel diritto le parole sono pietre e quindi se c'è una norma come quella per esempio da cui sono partito dall'amministrazione di sostegno che dice che l'amministrazione di sostegno è quell'istituto rubricato come protezione della persona priva di autonomia e non c'è scritto protezione della volontà della persona significa che siamo davanti a una definizione che ha fatto una scelta di campo e quindi non si può utilizzare in modo difforme sì poi la creatività dei giudici talvolta è anche necessaria ma in questo caso se c'è la norma non è necessaria quando c'è una lacuna è necessaria ma se non c'è la lacuna volenti o nolenti anche se non la condividi devi utilizzare quella norma ecco questo ci tengo a dire perché altrimenti questa espressione la tutela delle persone in difficoltà non è più quello che nel gergo comune c'è qualcuno sta in difficoltà cerchi di aiutare ma cerchi di aiutarlo per migliorare la sua esistenza non per porre fine alla sua esistenza e invece passa l'idea che la tutela della persona in difficoltà si realizza anche accompagnandoli alla morte o addirittura somministrando un farmaco perché muoiono allora su questo bisogna essere anche chiari e onesti e vedere le norme per quello che stanno scritto vedere le interpretazioni che se ne fanno poi nei dibattiti si può dire tutto il contrario di tutto però è fondamentale che la giurisprudenza quando applica queste norme lo faccia nel rispetto di una tripartizione antica dei nostri poteri costituzionali dove il governo governa il Parlamento fa le leggi e il giudice le applica vi ringrazio grazie molte grazie professor Gambino la sua relazione è di una chiarezza estrema lucida puntuale molto equilibrata e fa riflettere fa riflettere senza spirito polemico riflettere sui nodi più profondi del problema che lei ha esaminato con grande grande competenza grazie a tutti